buongiorno 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 dissing ti sei offeso ma di chi come mai stai così steso di qui io un po senti a strillare se scannassero fra da loro urlano porca maia l'hanno sentito son donne è normale ma sono da scanna fra da loro che io vengo via un po senti perché tu non urli mai giusto io non può senti a urla ok però puoi urla che numero è 30 lunedì e 30 è domani che giorno è sarà 31 la zucchetta di allung la famo e da sta fermo oddio la famo o no ma quei la zucchetta di allung si si umani c'è una giornata pazzesca vi aspettiamo dalle 16 vero si si al mcdonald vero tutti al mcdonald tutti al mcdonald noi saremo là dalle 16 a bastia umbra inaugurazione mcdonald bastia umbra aperto a tutti dalle 16 sarà nonno faustino carletto live filiberto tutti gli amici di nonno venite tutti quanti a salutarci eh si si guarda dai un bacetto dai un bacetto meglio meglio dai un bacetto dai un bacetto da sto pancotto no bamboccio dai assaggio di cappelletti mamma mia con che sono fatti è un ciuggeretto ve lo avevi mangiato bene in chilo così oggi mangiavo bene saura però due cappelletti lo assaggiate mentre ci sarà a breve ma di sé hoo